ciao a tutti Andrea Tonini investitore immobiliare Diego Vita apprendista tale allora un aggiornamento sono partite le proposte un anticipo Asta domani abbiamo un Asta e vediamo come va a finire domani andiamo a vedere a dei locali il geometra ci ha dato il benestare per fare una serie di cose quindi andremo a fare una proposta tra altri due locali roba di dieci minuti fa abbiamo fatto un'altra proposta per un altro locale un'operazione molto importante non diciamo troppo dove sono piccati e compagnia bella un po' per i competitor anche perché io mai mi sento seguito e compagnia bella mai a parlare una cosa è facile perché sennò qualcuno potrebbe interferire o copiare noi cinesi non ci piace detto questo a brevissimo vi aggiorniamo un sacco di cose borrono in pezzo secondo me Diego Vita ha i minuti contati ancora come aspirante investitore a brevissimo l'entra del card speriamo io ne sono convinto ciao ragazzi ciao alla prossima